Il Gup del Tribunale di Bari, Rosa Anna De Palo, ha condannato 8 persone appena comprese tra i 10 anni e i 4 anni 8 mesi di reclusione nell'ambito del processo Corona sulla mafia foggiana. Gli imputati sono i presunti capi e promotori dell'Associazione per delinquere armata di tipo mafioso denominata Società, finalizzata alla commissione di reati in materia di armi ed esplosivi, traffico di stupefacenti, estorsione imprenditori, riciclaggio e ricettazione di veicoli. La sentenza è stata emessa al termine di un processo celebrato con rito abbreviato. Il giudice ha inoltre applicato ad alcuni boss la misura di sicurezza della assegnazione ad una colonia agricola per la durata di un anno dopo l'espiazione della pena. Nel processo erano costituite parti civili, il Ministero dell'Interno, la Camera di Commercio di Foggia e la Federazione Antiracket Italiana.